Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione, lo so, tanti di voi dirai dici, ma Ivan, ma come? Dopo dieci mesi porti Uncharted? Sì, perché essendo un figlio non mi posso scordare per un bel po' di anni di andare al cinema, poi anche, come vi ho detto, la distanza costa quando venendo andare in macchina a Milano, quindi non posso farlo. Di comprare Blu-ray DVD non posso neanche quello, quindi ho dovuto aspettare che prenderlo mette a qualcuno delle piattaforme in cui sono abbonato, e Netflix ha fatto un accordino con Sony e l'ha portato. Uncharted, che io vi giuro, forse se correva l'anno 2007-2009 ero il ragazzino più felice del mondo, sapendo una cosa del genere, ma diventando grande e maturando mentalmente, perché tante persone che conosco col cervello un po' senza offesa è da ragazzini ormai, anche se hanno raggiunto, hanno superato i 30 anni, 40 anni, hanno un cervello mai mangiato dalla merda, io non me lo sono fatto mai mangiare dalla merda e quindi io sono qua a dirvi che Uncharted mi ha rotto il cazzo, mi fa schifo, questo film mi ha proprio, vi giuro, a questo punto è meglio giocarsi un gioco. Allora, per chi sapesse, Uncharted uscì nel 2007 su PS3, un'epoca che la PS3 non s'anculava nessuno, perché tutti avevano una 360, ok? Non c'era un cazzo, io avevo pagato sta PS3 600 euro, non sapevo che cazzo prendermi, praticamente ero in questo negozio del mio paese, anzi no, della mia città, e praticamente ho visto Stanciarti, mi hanno detto, ah guarda è uscito questa escusa PlayStation, non c'è un cazzo, ho detto, ah boh, prendiamo, mi dice, ma ti piace Tomb Raider? Ho detto, ah eh, mi ha detto, non mi dispiace, prendiamo. E da qui in poi io mi sono finto malato e tutto per cercare di completarmelo. Un gioco davvero divertente è anche ispirato, è quasi quasi sentirsi dentro un film. Cioè questo è già Uncharted, ti senti tu dentro il film, questo è già ti senti tu nel pieno dell'azione, all'interno dell'azione. Quindi fare un film su un gioco che è come un film non è facile, e qua non ci sono riusciti, non mi faccia gli orecchioni alle mie alledizioni limitate. Quindi questa è la mia più grande delusione, ma partiamo dal film. Come sapete ormai il nostro caro Sony Pictures si sta un po' allargando a cercare di portare questi videogiochi in film, sperando in The Last of Us non sia una merda, che almeno lì ci abbia avuto il director del videogioco, quindi potrebbe essere una bella serie di voodoo di The Last of Us. Quindi, ritornando a parlare di Uncharted, io essendo, come ho detto, un fan, io mi faccio vedere. Cioè io mi sono giocato pure questo, che nessuno se l'è giocato. L'Uncharted per PS Vita, mai uscito su PS3, mai uscito su PS4. Cioè per farvi capire il fan che sono io. Qua vabbè ci abbiamo la collection, vabbè, non ti dici, ma io, ma fammi vedere l'Uncharted della PS3. Arriviamo a 30 mi piace, faccio vedere tutta la mia collezione di Uncharted e le mie varie edizioni. L'Uncharted è l'ultimo. La fine di un ladro. Eccetera, eccetera. Quindi da qua farvi capire che io, Bianciarte, ne so abbastanza. Non come certe teste di cazzo, ci fanno i murales nel muro di casa, pagando 8.000 euro qualcuno. Varie conoscenze mie su fatti murales. Manco fosse un santo. E sicuramente questo film l'avranno apprezzato perché hanno il cervello di una gallina. Ma partiamo con ordine. Abbiamo Tom Holland, che ormai è, come si dice, abbiamo il nostro Tom Holland, che ormai è diventato il pupillo della Sony, lo vediamo in tutti questi film di Spagna, e dice, ma che cazzo possiamo fare a Nathan Drake? E qua, per esempio, questo film si basa come fosse un film prima degli eventi, dei giochi a cui abbiamo giocato. Quindi ancora prima del primo, ancora primo di questo, deve essere primo dell'Anciarte 2. E qua facciamo la scienza di questo Nathan Drake, che non sa di un cazzo in confronto al personaggio del gioco. Con un altro Sullivan, il nostro Victor Sullivan, che non sa di un cazzo, anche lui. Che Victor, cazzo, vi faceva ridere dall'inizio alla fine del gioco. Qua fa delle battute di merda, che fanno solo girare il cazzo. Nathan Drake è un tutto quando, no, tutto quando che fa il belloccio, che si mette un po' a rubacchiare, fin quando incontra Sullivan, che lo becca mentre sta rubando un po', e che lui fa il barman, il nostro Nathan Drake, che non è vero assolutamente, perché Nathan Drake non c'era sta roba qua nel gioco, non c'era detto. Un'altra cosa che ho odiato di questo film è il non coraggio di mettere delle cose di loro. Cioè, allora, se tu non vuoi basarti sui giochi, non ti vuoi basare sul gioco, ok? Ma non mi mettere le scene d'azione che ci sono negli Uncharted! Non me le mettere, porca puttana! No, me le inserisce, mi inserisce la parte dell'aereo che prende di Uncharted 3. La parte della serata di gala in Uncharted 4. Mi inserisce la parte finale del film di Uncharted 1. Ma che cazzo c'entra? Ma se tu mi vuoi raccontare prima degli eventi del gioco, perché cazzo mi devi far vedere le scene degli Uncharted e dei giochi? Certo, per far bagnare poi il fan rincoglionito, che per niente si accontenta di queste cose e sta zitto e chiude il cesso. Ma mi sbagliate di grosso, perché i fan come me, che ha giocato dal 2007, non comprando questi qua e facendosi murales in casa con i soldi di papà, qua stiamo parlando del fan vero che se l'è cresciuto, è nato con Uncharted, e quando vede queste cose ci gira il cazzo, perché io ho 28 anni, io l'ho giocato con Uncharted quando avevo 13 anni, li ho giocati tutti, li ho ricciocati fino all'anousia, tutte le difficoltà, quindi me ne ricordo proprio tutta la trama, vedere un abbrovio del genere, con i personaggi distrutti, soprattutto il personaggio, il suo nome mi sto incazzata, quindi mi sto un po'... Chloe, chi è? Chloe, si chiama? Chloe? Mi sembra, non mi ricordo, non sei tu che è quello più esperto. Ah, ecco, Chloe. Ma vi rendete, guardatela, cioè guardate, aspetta, non c'è un'immagine che posso vedere, cioè guardate quanto è bella. Ma mi potete mettere quell'attrice? Porca puttana che ha un cesso! Me lo potete mettere? Allora diranno, no, ma è bellissima! Mi fa cacare! Mi fa cagare! Mi fa schifo! Non c'entro un cazzo col personaggio di lei! È bellissima nel gioco! Vabbè, ma perché sei rimasto deluso... Ma questa qua è presa da una modella! Esiste, se non mi sbaglio, Chloe! È bellissima! Perché cazzo? Forse perché dice, no, la modella ormai è vecchia, ormai non può mettersi vicino a coso che sembra c'ha... 16 anni, quello lì! Mi ha fatto poi Natandrecchio, non sa di niente, non sa di un cazzo! Sembra lì, tanto per... Ma come cazzo vi può piacere Spider-Man sta merda? Lui non sa recitare! Lui è lì! Con sti muscoli, perché se le è fatti, perché se le deve fare, perché si deve far vedere! Ma poi, nel contesto, in tutto, non sa di niente, quando si indaga a fare sti enigmi, sono pure noiosi, ti rompi i coglioni! Più di quando tu li incontrai enigmi nel gioco, nel gioco a meno ti divertivi! Qua invece ti guardi, dici, ma che cazzo sto vedendo? Cos'è sta roba? Le scene d'azione, tutte quando in CGI, poche pure scene d'azione... Cazzo, ti stai basando su Uncharted che si spara ogni tre secondi! Lo so, uno dice, ma non possono fare un film che si spara senza lasciare stare la trama! Si deve fare così, perché se tu ti vuoi basare sul gioco, devi fare con un gioco! Perché c'è la migliore scena d'azione del gioco, nel film, c'è un cazzo! Che il gioco stesso si vuole basare, come si dice, sui film action! Poi i combattimenti, i combattimenti corpo a corpo con la CGI! Ma vergognatevi, che sta merda! Poi vediamo lui che si butta dall'aereo! Si butta dall'aereo! Si mette lì a svolazzare che volano i sportelli come niente, il ferro vola come niente! Lui non è che si spezza un braccio col vento, no! Nessuno ci ha pensato su questo, no! Nel gioco, tu dici, vabbè, però nel gioco non ti lamenti pure! Ma il contesto è diverso! Il contesto è diverso! Perché vedere un gioco che succede con queste cose, ti dici, vabbè, dai! Ma vedere un film con questi attori che fanno queste cose, dici, no, vabbè, ti viene proprio di staccare tutto, di mandare a fare in culo qualsiasi cosa! Non ci siamo! Sony ormai è alla deriva, alla deriva di tutto! È la colpa, soprattutto, è dei youtuber venduti, perché siccome ricevono tanti regali, tanti regali, soprattutto su questi film e su queste cose, su queste produzioni, che loro si aprono il buco del culo, vendendo anche il culo della madre, per farsi regalare le cose, io siccome non ricevo un cazzo, non do ricevere niente, io vi dico la verità, che a me mi ha fatto solo incazzare, era meglio, non me lo vedevo, perché la cosa peggiore sono i fan malati mentali, ovvero quei fan che pensano che siccome si chiama Uncharted, bisogna sostenerlo, bisogna dire che è bello, perché il cazzo abbiamo iniziato tutti i giochi, quindi vedere il film è giusto dire che è bello, no, assolutamente, a sto punto meglio Tomb Raider, il film di Tomb Raider che si basava proprio sul primo di gioco e tutto quello che succede nel film di Tomb Raider il primo, è basato sul cazzo di primo gioco, invece qui è un miscuglio di tutti i giochi e non c'entra un cazzo, perché se mi racconti prima degli eventi del gioco, è inconcepibile, è bello che Tomb Raider è andato a fare in culo, non l'avrete, non neanche l'avete cagato, perché giustamente Tomb Raider non è che può tirare tanto, non c'è quella pubblicità dietro come può farti la Sony, no? Guarda, io mi sono stancato soprattutto perché qua su YouTube e tutti gli altri canali c'è sempre questa leccata di culo che mi sta dando il volto a sommo, già si lecca il culo per andare a lavorare nella vita reale pure su YouTube che cazzo prendono delle pubblicità eccetera ma perché rendersi così? Perché? Dici ma per i soldi e lo so, questo sì, però la loro dentro di me io soffrirei a dire queste stronzate perché so che prenderei in giro il mio pubblico che mi segue e io dovrei portargli rispetto a quel pubblico e gli dici ok ma il pubblico non ti paga, è vero, però può essere più avanti, si rendono conto che io sono un minchiataro venduto e quelle persone non mi seguireanno più perché dicono questo qua spara cazzate questo le verità non me le dice me le nasconde le cose e quindi io non lo seguo più e se sta cosa io tanto YouTube non lo seguo di più perché ricevono tv gratis console gratis videogiochi film tutto ma è normale che io non mi posso affidare di questo che ogni volta tutto quello riceve è sempre bello ma una volta dice no sono rimasto deluso e questa è anche colpa loro che l'hanno pubblicitato così tanto questo film che è andato bene è andato bene Uncharted e ci si sta già parlando del sequel di Uncharted ma che sequel dovete fare dovete buttare tutto nel cesso dovete mettere cazzo cercate questo fan film su Uncharted che è meglio quello c'è questo proprio che ci somiglia veramente a Nathan Drake non sto stronzo teenager che è ancora con tutto ciò che è pure adulto sembra ancora un ragazzino fa schifo ma con tutto ciò che non ho in mente che ho qualcosa con Tom Holland ma non c'entra un cazzo io volevo qualcun altro a posto su un uomo di 40 anni 35 questo era Nathan Drake non sto stronzo sarà il secondo o metteranno quattro pezzi no no sarà lui no ho detto pensavo il fatto del secondo metteranno quattro pezzi di gioco misto come è successo qua ma poi parlando dei cattivi abbiamo un Banderas un Banderas che quasi quasi sta facendo la pubblicità del mulino bianco ci manca poi con quella voce lì ma come cazzo lo posso prendere seriamente cioè pure il doppiatore originale quello che lo doppia pure nel mulino bianco ma come posso avere paura un cattivo che non dura neanche tanto questo cattivo poi abbiamo un'altra cattiva che viene dalla dalla saga televisiva di Sabrina che io ho apprezzato è bravina lei anzi ho visto che lei è stata l'unica che cercava di entrare nella parte mi dispiace pure per lei vogliamo dire che è stata più cattiva lei che Banderas veramente è stata brava lei è stata brava anzi ha cercato di fare qualcosa ma la cosa che lei non sa che il personaggio suo non tornerà nel prossimo film che tutto quello che ha fatto è inutile perché non stai recitando in un film importante che tu devi lei ha cercato di dare il suo possibile che sa benissimo non andare da nessuna parte perché non è Tom Holland non è quelle ragazze come altre che hanno la fortuna di andare avanti questa qua rimarrà nel dimenticatoio in questo anziate a me dispiace perché è stata anche brava sempre anche in Sabrina è sempre stata un'attrice molto che ci mette il cuore invece è Tom Holland e gli hai fatto un cazzo di sci tanto sono contratto con Sony chissà per quanti anni che cazzo se ne è fotto lui gira un coglione lì con anche mi è dispiaciuto poter vedere come cazzo siamo statui non so pure scordare che apprezzo qua non l'ho apprezzato sembra un coglione qua Mark Wahlberg io vi giuro l'ho apprezzato più su Transformers sa lui che in questa cazzata di film che Victor Sullivan non c'ha manco il pelo del cazzo e poi alla fine con quei baffetti mamma mia ma che schifo c'è ma a sto punto perché devi mettere alla fine c'è che così diciamo oddio guarda ci hanno messo i Victor ci hanno messo i baffi e che nel gioco c'avevi i baffi sempre no fa schifo è di cattivo gusto non si può vedere no no fa schifo il fatto che tu mi vuoi fare no emozionare oddio guarda c'hai i baffi come gioco si no è una merda come anche il Nathan Drake che si mette la maglietta con i tre bottoni del cazzo come tutti nel gioco con mezza scindura fuori col pantalone fa cacare perché non c'entra un cazzo perché se stiamo parlando che lui è piccolo questo vestito lo dovrebbe indossarlo quando dovrebbe essere molto più grande cioè lui per 15 anni si è vestito sempre con un jeans e una maglietta bianca non credo non credo detto questo lo so che tanti mi verranno incontro mi diranno ah tu così io ragazzi come sempre dirò sempre la verità sono stato fan di tante cose ma il vero fan è quando critica il vero fan è quando non lo so fa buttare al culo come certa gente che se lo fa mettere continuamente nel culo continuamente con tante stronzate figurate quando ho studiato ora per farvi un esempio io ero fan di Assassin's Creed ora ne ha annunciati quattro secondo voi i stronzi si compreranno tutte le edizioni perché io sono fan che poi non se lo sono manco giocato quando sono uscito nel 2007 che mi fate ride veramente io nel 2007 mi ricordo sempre anche questo Assassin's Creed tutti sono diventati fan quando c'è stato Ezio oddio Ezio quando me lo fai diventare duro e poi se lo so buttare in eccesso quello del primo quando diciamo la verità il vero ma vero 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 fan non è incoerente si ma bisogna vedere i problemi io vi giuro ho venduto tutto di Assassin's Creed non ho voluto vedere più niente perché l'ho iniziato ad odiare vedendo la saga dove è andata a finire diventando un gioco di ruola diventando un gioco di merda che era un'altra cosa prima vabbè però se gli fanno se gli piace prenderlo nel culo ma io chi cazzo sono a digli che uno mi dice ma io sono i soldi miei ma a te che cazzo te me frega e se sta così io posso dire quello che voglio tu vuoi buttare i soldi a stananzate vuoi vederti a un certo e due al cinema valla a vedere fatela buttare al culo lo so che ti dice Ivan sei cattivo così io rispetto tutti potete vederlo assurdamente andatelo a vedere a me non c'è n'è problema almeno mi cambia niente almeno mi entra un cazzo soltanto che vedo che i deficienti portano avanti questa merda e mi fa girare un po' il cazzo perché sinceramente avrei preferito un film in CGI che sta cazzata di film con questi attori almeno in CGI si poteva fare gli stessi attori ma quella là che fisico lo sai io mi dici ma non si deve ma non c'è proprio il fisico del gioco ma è bellissima quella del gioco perché quella cosa lì va vabbè scontenti voi fatevi murales chiamate artisti per farvi dipinto e poi quando c'è la merda dici ho speso 7 mila euro di murales a dire che il film è una merda poi gli dici ma tu ma c'hai il murales in casa è giusto bisogna bisogna giusto prendersi in cielo tra di noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao